MEDITERRANEO Il mezzogiorno è una straordinaria piattaforma logistica non soltanto per gli scambi commerciali ma anche per esempio per gli scambi culturali. Per la formazione. Se devi guardare la sfonda africana il passaggio dalla Sicilia al mezzogiorno è un passaggio abbastanza naturale, va riempito di contenuti, di servizi e di funzioni. Milano. Milano è lungo l'asse che parte dal nord dell'Europa e arriva al Mediterraneo. Le due grandi vie d'acqua del Mediterraneo, Genova come sbocco, Trieste come sbocco, poi confluiscono dentro questa gigantesca macro regione, forse la più industrializzata d'Europa insieme al Baden-Württemberg. Che è, per chiamarla con le sigle dell'autostrada, la regione A1-A4, da Torino a Udine, dal Brennero all'Emilia. Milano è baricentrica. La relazione tra Milano, l'Europa e la sfonda mediterranea è fondamentale. Palermo è lì. Io credo che le due città stiano pensando a tutto quello che, soprattutto nella stagione dell'economia digitale, può essere fatto insieme.